signori signore buongiorno benvenuti bentrovati e buon inizio di proseguimento di settimana tutti quanti voi spero stiate tutti quanti bene come potete vedere dal titolo siamo pronti per un'altra giornata di ordi a di ordinaria follia nella mesopotamia signori questa è la mesopotamia voi siete la mesopotamia io vi do il benvenuto in questo nuovo episodio in questa nuova avventura avventura che comincia da qua comincia da una farm di guider skeleton che non funziona più a colto pare molto bagata ma non ci preoccupi non ci preoccupiamo proprio perché adesso io come prima cosa voglio farmare un po di totem quindi ci richiedevo quella che io chiamo fortezza dei cosi quanto non mi ricordo mai come si chiamano i villageri i vessanti comunque andiamo lì cerchiamo di uccidere più capi possibili se siamo fortunati magari prendiamo anche il malaurio di quinto livello e e dagli è tutta io mi ero messo qua stamattina un po fermo a vedere se per caso ripartiva questa farm ma purtroppo non c'è niente da fare è baggata e baggata mi rendo conto che ho speso un bel po di materiale un bel po di tempo per costruirla però è tutta esperienza tutta quanta esperienza quindi io vi do nuovamente il benvenuto vi do il buongiorno io sono fabio meso questa è la mesopotamia e per il momento siamo pronti per andare a farmare un bel po di totem o meglio io almeno cinque vorrei portarmi a casa quindi quindi preparatevi perché sarà non so se la può essere anche che sarà abbastanza noioso però io se prima che erano cinque totem stamattina non ho intenzione di fare nient'altro ma veramente nient'altro quindi questo è quanto signori ci addentriamo nel deserto quota 100 mila blocchi percorsi ovviamente tutti quanti a piedi prima che essi avuto la possibilità di procurarmi l'elytra ovviamente abbiamo sentato una posizione dai farm ride eccoci qua non è allora qua c'era una farm di ride vecchina la prima farm di rai che avevo fatto proprio vicino al discorso la che adesso andremo a vedere tuttavia mi hanno ucciso il vessante ma ho ucciso il villager che stava qua sotto e ho deciso di rifarmi un'altra in un altro stile in mezzo all'oceano diciamo più vicina più vicina a casa ma più lontana da qua e quindi vamos signori siamo pronti vi ricordo che abbiamo un canale youtube se avete voglia di iscrivervi se avete voglia di lasciare un like anzi lasciate anche pure un dislike un commento un insulto l'importante è che lasciate il vostro feedback ovviamente corcorro colgo l'occasione di salutarvi già perché voi che guarderete questa cosa su youtube sostanzialmente siete già su youtube vi invito eventualmente a passare nella piattaforma viola se proprio proprio avete voglia di eventualmente fare una partitina e purtroppo mi sono appena accorto che non ho più frecce quindi dovremmo arrangiarci con la spada fa niente fa niente si comincia signori sto anche facendo notte teniamoci sempre la barra di cibo piena che queste attaccano proviamo già a dormire ok io questo è un lavoro veramente molto molto per quel che mi riguarda noioso però raga se vogliamo essere immortali qua vedo che i signori i nostri amici si sono divertiti si sono divertiti coi ponti questi sono abituati alle bad wars e le nostre nuove leve del serve ragazzi veramente molto molto simpatici molto molto forti forti mi piacciono mi piacciono molto allora abbiamo un primo capo qua molto bene e abbiamo già malaugurio di primo livello abbiamo già un primo livello di malaugurio almeno almeno come avevo detto poco fa io non mi sposto oggi da questa situazione finché non riesco ad accumulare 5 totem e ne approfitto finché siamo tranquilli questa mattina o come dire rimosso dalla bici di mia mamma la mia prima camerdaria di tutta la vita non l'avevo mai fatto non era mai capitato sempre come dire lasciato a chi di dovere questi lavori però ci abbiamo provato ci abbiamo provato e quindi sono riuscito ovviamente mi sono visto 10 tutorial su youtube perché qua senza i tutorial non riusciamo a vivere no vabbè ci sta perché per non rovinare la fine magari sai la spacchi la buchi quant'altro avevo anche l'apposito attrezzo per rimuoverla manco sapevo di averlo subito ho usato un'altra cosa e tanta roba tanta roba abbiamo imparato una cosa nuova ne ho approfittato stamattina presto 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 finché era freschino perché quando faccio lavori che non so fare robe nuove col caldo anche no anche no ora quasi sono proprio divertiti a fare i ponti allora c'è il sin che è una roba incredibile cioè lì fa siamo andati ieri sera sul nether nel nether insieme per cercare un template di quelli smith smith in template smith in template e caspita fa di quei ponti velocissimi addirittura senza accovacciarsi robe robe assurde io non gli stavo dietro io non gli stavo dietro quando andavo sul nether perché mi viene da dire sul nether quando andavo nel nether contrast stessa roba noi non gli stavo dietro però era un po molto più cauto caspita storia ragazzo qua una roba impressionante io non riuscivo cioè continuavo a tifarmi ogni tre secondi a un certo punto detto aspetta aspetta torno a casa e lascio giù un po di roba perché la mia paura non è quella di morire neppure quella di perdere tutta la roba hai capito quindi sono sempre molto cauto prima o poi prima o poi infatti stavo pensando che quando capirò un po come funziona ci faremo nel nostro mondo un percorso di parkour ho visto che ci sono vari server dedicati ma noi avremo il nostro parkour nel server alla fine per far parkour giustamente dici se vuoi far parkour vai nel nether sì però io voglio far parkour in luogo sicuro e anzi mi è appena venuta un'idea sarebbe molto figo costruirlo in nel mare aia sopra il mare sta roba qua sto percorso hai capito e ci sta ci sta secondo me è che non io ancora non so cosa cioè quanti blocchi si possono saltare tutte quelle robe lì con un salto cioè non so nulla però sicuro lo faremo allora abbiamo un malaugurio di livello 2 abbiamo un malaugurio di livello 2 che non ci dispiace però voglio almeno un livello 3 vorrei almeno un livello 3 non mi devo allontanare troppo cerchiamo di tenerci sempre la bar del cielo del cielo del cielo piena ho caricato la clip di ieri dove volevo fare uno scarso ad antonio per vendicarmelo di un altro stesso scherzo appena ricevuto è andato a finire malissimo andatevele a vedere andatevele a vedere oppure guardatevi quella clip che trovate l'ho caricata nella versione diciamo orizzontale sia in versione short short video tanta roba tanto ridere tanto ridere o quanto ridere forte che sai cosa ti dico io potrei farne siamo già a livello 2 senza perdere così tanto tempo vado già intanto a prendermi questi totem qua così ci sta andiamo in mezzo all'oceano adesso tele trasportiamo direttamente in mezzo all'oceano prima di venire ammazzati anche perché non ho più cibo eccoci qua ma la spada madonna lancio sempre le robe io in giro l'ho perso un arco l'altro giorno questa è stata non è stata difficile costruire però insomma per un abbo come me costruire una roba del genere in mezzo in mezzo sotto all'oceano non è non è tutto di rispetto buongiorno buongiorno caro raccio buona giornata anche lei come andiamo come andiamo stamattina ho smontato ho rimosso la mia prima camera d'aria camera d'aria della vita di tutti una bicicletta qua a casa sono molto contento sono molto felice poi andrò tipo a sostituirla ad acquistare l'altra nuova poi andiamo a sostituirla e non avevo mai fatto che pensi lei pensi lei sono molto felici per quel che riguarda qua stiamo invece come dire sto prendendomi qualche totem dell'immortalità a tenere sempre con me in questa bellissima farm di ride che ho fatto ancora qualche tempo fa e quindi io ho pensato che finché non ne ho almeno tipo 5 di totem qua meglio che rimango a fare sta roba quindi tanta tanta roba buon caffè da caffè buon caffè io ne ho già presi non so quanti beh non tanti in realtà però tipo dalle 5 un quarto la prima camera della vita esattamente esattamente tra l'altro a casa avevo un kit che acquista il materassino del campeggio no quindi kit che comprende un piccolo pezzettino di carta vetrata e poi e poi dei dei cosi di degli adesivi non so come chiamarli ho trovato il buchetto in realtà poi si è venuto a scoprire che c'è c'è la valvola che perde pure e quindi devo sostituire la camera d'aria tutto tutto quanto sì sì la prima proprio io ne ho fatte tante ma dai io stanotte mi sono visto dei tutorial pensi lei proprio per proprio per perché non sapevo come fare aspera blocco il download che sto scaricando un nuovo gioco ma che spi gioco stai sta scaricando un nuovo gioco addirittura sempre a giocare stiamo noi qua giochiamo no più noi i nostri figli città io non ho figli purtroppo chissà se un giorno ne avrò mai giorno ormai 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 però vabbè si è incastrato bro ma non c'è quello di ma do non neanche frecce vediamo se c'è una freccia qua ma donna neanche una freccia caspita adesso è che se torno a casa mi sparisce il ride in teoria e qua tipo noi se andiamo suonare la campana vediamo dove si trovano le persone che si stanno invadendo ma li vorresti sì certo io li ho già sempre voluti purtroppo perché credo che diciamo il mondo l'universo mi ha già dato questa questa possibilità nel senso che quando avevo 22 anni è capitato proprio che la fidanzata rimanesse proprio incinta il problema è che lei non ha voluto tenerlo e quindi purtroppo le scelte anzi è capitato due volte sempre con la stessa ragazza e purtroppo le scelte non aspettano sempre a lei e quindi credo che a volte penso che magari la possibilità la mia possibilità la mia occasione magari è stata quella lì hai capito ho sempre pensato comunque che avere figli dopo una certa età per quel che mi riguarda per la mia persona non avesse avuto chissà quale senso tuttavia ho visto che anche tra i miei amici fanno figli sempre più tardi e vabbè sì sì una brutta storia però magari sai che poi se le racconto il motivo della scelta di questa ragazza è ancora di più una brutta storia perché lei aveva un po questa questa fissa di della linea di essere sempre noi dal top snella di qua e di là lei era un po non dico non è non c'è di fisico no però mentalmente ragiano era anoressica mentalmente ma che soffrire non frega niente proprio sai perché sa perché lei non ha voluto proseguire sta roba proprio perché aveva paura di ingrassare cioè lei non avrebbe mai pensato di rimasti stare tipo nove mesi col pancione con i fianchi perché poco ci aveva ste fisse che doveva essere perfetta robe robe assurde robe incredibili però penso anche che allo stesso tempo se non è andata avanti sta storia vuol dire che è stato meglio così è stato meglio così non era non era buona cosa figurati se io sto nove mesi col pancione figurati se io mi faccio allargare i fianchi ma stiamo scherzando e niente poi partita è andata tiene ha fatto gli interventi lì basta fine è stato meglio sì sotto molti aspetti di fatto dopo purtroppo sono uscito io dalla vita sua però ci sta ci sta le cose si fanno sempre assieme non è mai unidirezionale secondo me la storia comunque raga devo salire per cercare di vedere se riesco a far muovere sto sto broschi sto broschi perché altrimenti io sto qua a mezz'ora fatalità e notte pare che incastrato qualche incastrato e non ho frecce mi suicidio il suicidio proviamo ma nel senso su minecraft su minecraft anche perché dopo che more questo ne arrivano altri quindi devo essere super veloce ho visto che bel toretto ho paura di cadere io me la dava me la doro eccolo 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 è andato tanto che adesso arrivano gli altri e devo essere veloce dove sono no 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 ok accidenti accidenti gli occhi non YouTube via 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 mamma mamma meno male avevo il totem si si suona è il villager che ho portato qua sotto che suona le campane quando sente che stanno arrivando i nemici lui suona le campane Madò Madò che spavento Buongiorno DJ Kelly, benvenuta Madò Se non avevo il totem ero morto Alla fine Come va? Come va? Come andiamo? Ti faccio vedere l'accio Se io faccio così Suono la campana Vedo, no aspetta perché qua muoio Questi vanno uccisi super velocemente Altrimenti ti mandano Di tutto, ti mandano Vedi io Da qua sotto lei suona la campana E vede la posizione di chi sta sopra Aspetta un attimo Eccoli Se riesco a suonare Eccoli vedi Vedi che stanno arrivando tutti sopra Suonando la campana Anche io non riesco più a beccarla Sinceramente Vabbè Sì Sto portando sull'armadio Sto prendendo fiato Prima di portare sui tre pezzi Di 50 kg Seppellitemi qui Ma non si può dare una mano Non si può fare dare una mano Da qualcuno Non può farsi dare una mano Da nessuno Qualche giovanotto Lì in zona Roba del genere Non so io Voi avete dormito bene Vi siete riposati Io ultimamente sto andando a letto Sempre un po' più tardi Perché sto sempre qua a giocare Poi spengo il gioco E vado a vedermi tipo le serie Su youtube Di un paio di ragazzi Che ho iniziato a seguire Che portano minecraft E ora Partirò fuori con i tre catafalchi da bagagliaio Mi toccherò chiedere qualcuno di passaggio Ah si ma infatti Ci sta Ci sta Incursioni restante due Non mi dire che si sono bloccati Ah dove Ancora Ma allora c'è qualche bug Non fate sforzi A me Portando una lavitrice Mi è uscita un'ernia sul pancino Ops pancione Faccio collezione ormai Raga Io Mamma mia Circa Boh Sette mesi fa ormai Mi sono messo a A svuotare E pulire Una cella freezer Dove lavoravo E Che era messa veramente in condizioni pietose Avevo appena iniziato a lavorare lì Quindi mi sa che Se non lavoro più lì Da sei sette mesi Stiamo parlando ormai di un anno e mezzo fa Condizioni pietose Continuavo a dire al capo Vare che qua Eh si si faccio fare a questo Faccio fare a quello Faccio fare al lavapiatti Faccio fare a quell'altro E io tutti i giorni andavo là E c'era un disastro E insomma c'erano cassette Piene di roba Tutto quanto fuori regola Perché cioè Le cassette Devo pesare al massimo 20 kg In cui c'è le freezer lì No? Madò Madò Mi sono svegliato il sabato notte Che tra l'altro lavoravo sempre Ero a casa solo il lunedì Mi sono svegliato un sabato notte E mai successa una roba Del genere di vita mia Perché Dentro caldo-freddo 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 C'è la freezer stiamo parlando Meno 40 gradi Quella lì Meno 36 Era no? Era proprio quella Proprio Io boh Mi sono svegliato Ho iniziato a gridare A casa mia proprio Capito? Ho iniziato a gridare Mamma dal dolore Non ce la facevo più Non ce la facevo più Oh il mattino dopo Comunque sono andato a lavorare Un mal di schiena Un mal di schiena Ciao ti hanno mai detto Che hai una voce a doppiatore Qualcuno me l'ha detto Qualcuno me l'ha detto Grazie mille Kennedy Il doppiatore purtroppo Il problema è che sono alfabeta Quindi Non potrei mai fare il doppiatore Benvenuto E ben trovato Meno 36 Che sogno Oddio Che sogno Provi lei Provi lei Che tra l'altro Io c'è Io ero sempre I manichette corte Cioè avevo la mia Camicetta da chef Però Quelle manichette corte È estate no? Prove Robe Robe Vara veramente da non credere Però Ma il mal di schiena è pesante Io ho due anni al disco Non sono anni Che stanno buone Certo giornate occasionali Io fortunatamente Ancora non ho avuto Sto tipo di pensiero Credo Però Le ho provate Tutte Niente Non ho provato Sono andato in farmacia Mi sono preso i celoti Che non Ho speso un sacco di soldi Per i celoti Che non hanno fatto nulla Ho provato a fare Impacchi di sale Niente E poi col tempo Col tempo Ma ci ho messo Tipo un mese e mezzo Dovevo veramente Stare attento Infatti Dopo in cucina Io non facevo più nulla Neanche una pentola Alzavo più Gli dicevo sempre Chiamavo sempre O lavapiati O qualcuno O l'aiuto Capito Sposta qua per piacere Sposta di là per piacere Perché è poco Zero E niente C'è un bug C'è un bug Col toro Qua raga C'è un bug Guarda Se avessi delle frecce Perché io ho paura Che teletrasportandomi a casa Va bene Ci provo Ma è che vada Ho perso tutto Cioè ho perso due totem Ho perso Due ore della mia vita Ho paura Che teletrasportandomi a casa Perdo lo stato di Male augurio È un problemino Però che devo fa Cioè se vado su adesso Ci muoio A meno che A meno che Non ho neanche blocchi Niente Aspetta aspetta Però Cerchiamo di aguzzare L'ingegno Aspetta Perché forse Forse Una piccola idea Malsana Sicuramente Mi è venuta Allora È giorno? Sì è giorno Mamma mia Mai successo in vita mia Ma non riuscivo neanche A Ad alzarmi Dal letto Copio Mai successo Ma sei solo Sul server In questo momento Sì 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 È prestino È prestino Ma chi è che c'è qua? È caduto forse? Non c'è nessuno Forse ha notato il mio Movimento del caduto Boh Ma qua è tutto Buggato Ah il totem Ma no Ma questo Boh Eroi del villaggio Sì ma dove è totem Ah ma forse È dentro qua Ah eccolo Dove era finito Perché è tutto pieno Vede Ah mi avvio Per l'ultimo sforzo Più tardi Se non torno più Sappiate che vi ho voluto bene Sappi anche lei Signorina Mary Jane Kelly Che anche noi Le abbiamo voluto bene Mi raccomando Buon proseguimento Seguo il consiglio Del buon raggio Non faccia Troppi sforzi Si è presto Ieri sono andati a fare serata Se è serata No ma abbiamo giocato Fino Alle Una Poi Tra l'altro Io Mi sono spostato Tra l'altro Grazie a tutti Grazie a tutti